Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Oggi la nuova ricetta che vi propongo sono le lasagne senza glutine. Sicuramente è un piatto domenicale e quindi buonissimo perché io le adoro e oggi ho voluto sperimentare questa nuova versione senza glutine che sicuramente potrà essere di aiuto a tantissime persone che insomma sono intolleranti. E niente, allora mi raccomando, seguitemi sempre sui social e che ve li lascio subito, la Cucina di Maria su Facebook e la Cucina di Maria ufficiale su Instagram. Vi mando un bacione a tutti quanti, buona domenica e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!